Ciao a tutti e bentornati a Cosmopoliner. È disponibile su Netflix The Old Guard, film originale della piattaforma streaming con la fantastica Charlize Theron e il nostro Luca Marinelli. Racconta la storia di un gruppo, un microesercito di immortali, immortali ma con molti ma. E chiaramente il primo film o vuole essere il primo film di un franchise cinematografico in streaming sta a noi dunque il pubblico decretare il successo o meno di questa pellicola. Vi voglio far sapere che cosa ne penso in questa recensione rigorosamente senza spoiler ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd everywhere allora followatemi su Instagram, mettete mi piace alla mia pagina Facebook e condividete questo video in ogni dove. Bene, ciancio alle bande e cch cch, sigla! Ok, mettiamo subito le cose in chiaro. Non ho mai letto la graphic novel da cui questo film originale Netflix è tratto. Quindi la mia non sarà un'analisi sull'adattamento appunto dell'opera cartacea in opera cinematografica ma semplicemente un insieme di opinioni riguardo The Old Guard, il film originale Netflix. E sappiate che c'è già molto da dire anche limitandosi a questo. Sì, perché il film The Old Guard ha degli aspetti che mi sono piaciuti tantissimo e degli aspetti invece che non mi sono piaciuti affatto. Ma direi di cominciare da ciò che secondo me ha vero potenziale all'interno di questo primo film di un futuro franchise, ovvero i suoi lati positivi. A parte ovviamente la strepitosa Charlize Theron che si conferma per l'ennesima volta un'eroina action coi controfiocchi, cioè eroina action con capacità recitative decisamente notevoli, quindi appunto l'eroina action perfetta, che regge sulle sue sole spalle buona parte di tutto il film, altri due lati estremamente positivi e estremamente ricchi di potenziali. Ovviamente a mio avviso sono i personaggi e l'immortalità come maledizione. Ebbene sì, perché come avrete visto dai trailer, quindi non sto facendo nessuno spoiler, The Old Guard racconta di questa vecchia guardia appunto, un gruppo di immortali che vaga per il pianeta Terra, chi da millenni, chi da secoli e chi da decenni per combattere pro o contro l'umanità stando dalle parti dei buoni o dalla parte dei cattivi a seconda dei secoli, insomma almeno a detta loro e a detta di ciò che si vede nei trailer. Benissimo, questi immortali sono diventati immortali? Non si sa perché e per come, tuttavia lo sono immortali che però ad un certo punto si possono morire. Alt, muoiono n volte ma ogni volta resuscitano e le loro capacità curative, rigenerative, sono decisamente stile Wolverine e effettivamente prendono molto da Wolverine, almeno dal punto di vista di questo superpotere. appunto vivono per sempre finché le loro ferite non smettono di guarire più velocemente rispetto agli esseri umani normali e quindi perdono l'immortalità quando accade, un po' come il Natale che quando arriva, arriva. Continuare a vivere non significa non soffrire. Durante le loro scorribande in giro per il mondo, i quattro immortali scopriranno l'esistenza di una quinta immortale che cercheranno di far entrare all'interno della loro famiglia allargata e ovviamente l'arrivo di questa giovane immortale, di questa nuova immortale permette al gruppo di raccontare, svelare implicazioni morali, etiche e chi più ne ha più ne metta dell'immortalità che è vissuta dal gruppo più come una maledizione che come una benedizione perché quando vedi sparire tutta la tua famiglia e non sai come fare per salvarla sopravvivere a tutti i tuoi cari, andare avanti sempre, non poter morire mai beh, a lungo andare deve effettivamente stancare e anche farti uscire un po' di testa e per quanto appunto la tematica dell'immortalità e il passato dei personaggi siano due tratti che riescono a scatenare all'interno dello spettatore una curiosità assoluta e quindi anche voglia di vedere nuovi episodi che tuttavia non esistono ancora quasi tutti gli altri aspetti di questo film diciamo che non riescono esattamente a entusiasmare lo spettatore come i lati positivi che vi ho precedentemente elencato perciò che ne dite, diamo il via alle dolenti note e credo sia arrivato il momento, come è arrivato il momento di parlare del cattivo un cattivo che più insulso e macchiettistico probabilmente non si può sembra un insieme e un mix mal riuscito di Malekith l'elfo oscuro interpretato da Christopher Eccleston in Thor The Dark World e diciamo una versione depotenziata dell'ex looter di Batman contro Superman quindi capirete anche voi l'importanza di questo personaggio veramente detestabile ma che è detestabile in quanto rappresentazione o meglio personificazione dell'insulsaggine interpretato dallo stesso attore che fu il cugino Dudley di Harry Potter informazione questa che vi farà sicuramente comprendere perché il cattivo di The Old Guard vi starà sulle scatole dal primo o secondo in cui apparirà in scena diciamo che tutto ciò che riguarda la presenza di questo villain i piani di questo villain e i risvolti che hanno ovviamente i piani di tale villain sulla trama e sull'esistenza degli immortali della vecchia guardia a me non sono piaciuti perché con tutte le potenzialità che i personaggi immortali hanno con tutte le potenzialità che il concetto dell'immortalità come maledizione ha vedere alla fine la trama di The Old Guard ridotta a dei semplici esperimenti a voi siete immortali allora voglio capire qual è la chiave genetica vostra dell'immortalità eccetera eccetera e ragazzi questo c'è già tutto nei trailer perciò non sto spoilerando niente mi è sembrato veramente banalizzare qualcosa di potenzialmente molto figo ora non sto dicendo che avrebbero dovuto basare due ore di film solo ed esclusivamente sul background dei personaggi sulla loro immortalità era ovvio che fosse solo un assaggino di ciò che vedremo nel futuro del franchise e se ci sarà effettivamente spero di sì proprio per scoprire qualcosa di più a riguardo e ci doveva essere un cattivo un'organizzazione insomma un qualcosa che rischiasse di mettere a repentaglio l'anonimato e anche la vita di questi immortali il futuro di questi immortali però magari rendermelo un filo meglio caratterizzarmi un cattivo che avesse effettivamente una ragione di esistere in qualche modo no è sforzo zero e si è notato veramente tantissimo soprattutto da questo punto di vista perché lo sappiamo benissimo non c'è nulla che rende più credibili e più interessanti i protagonisti buoni quindi appunto i personaggi positivi della storia come degli altrettanto ottimi se non superiori ancora personaggi negativi perché la creazione di un buon villain è il modo migliore per rendere immortali i buoni i personaggi protagonisti positivi ma immortali non nel senso come in The Old Guard che non possono morire immortali all'interno delle nostre menti all'interno dei nostri cuori all'interno delle nostre preferenze cinematografiche in questo caso ma effettivamente credo di aver notato all'interno del film originale Netflix tutta un po' di stanchezza un po' di svogliatezza nella narrazione generale dell'opera oltre a un comparto tecnico-artistico decisamente poco ispirato in grado certo di portare a casa il proprio risultato ma senza niente di originale senza qualche contributo interessante anche le scene d'azione sì, sono normali, intrattengono ma niente di che certo, questo almeno dal punto di vista della sottoscritta mi ha dato molto fastidio per dire l'utilizzo a volte totalmente a sproposito di musiche pop inserite a volte anche proprio a forza all'interno del lungometraggio mal amalgamate insomma, a parte tutto ciò vorrei concentrarmi soprattutto sulla narrazione perché secondo me è veramente quello l'enorme tallone d'Achille di The Old Guard la trama è poco interessante e mal narrata anche molti dei dialoghi presenti all'interno di The Old Guard sembrano piazzati lì perché devono esserlo sono forzati, sono poco spontanei e a volte quindi sacrificano le potenzialità narrative dei personaggi a parte ogni tanto ho notato o guardato il film in lingua originale un po' di recitazione alla Roberto Farnesi ovvero di comunicazione diretta con i delfini che veramente se non ci fossero stati i sottotitoli non avrei neanche sentito che c'era qualcuno che stava pronunciando una battuta ma a parte tutto ciò dicevo la narrazione c'è poco pathos nella narrazione di The Old Guard c'è poca intensità ci sono delle scene che avrebbero tranquillamente potuto tagliare e ovviamente la pellicola ne avrebbe soltanto beneficiato da un punto di vista di ritmo di tenuta, di interesse e di tensione soprattutto il ritmo all'interno della narrazione di un film e soprattutto di una storia che ancora non conosciamo e che deve essere adrenalinica deve essere action che ti deve anche conquistare da un punto di vista emotivo e ti deve creare empatia nei confronti dei personaggi è fondamentale come è altrettanto fondamentale riuscire a scrivere una storia che sia a servizio dello sviluppo e dell'empatizzazione con i protagonisti principali appunto della storia ovvero con i membri del gruppo della vecchia guardia ecco non è stato fatto nulla di tutto ciò sembra che la trama sia stata inserita per fare solo ed esclusivamente minutaggio riuscendo almeno secondo me nell'unico e terribile obiettivo che effettivamente spero non si siano posti durante la creazione del progetto di allontanare da tutto ciò che aveva potenziale di allontanare da tutto ciò che aveva interesse lo spettatore insomma The Old Guard mi è sembrato un esperimento non riuscito con poco equilibrio, poco guizzo, poca originalità e poco interesse e poco impegno soprattutto da un punto di vista di scrittura con dei personaggi molto molto interessanti e con tanto tanto potenziale che tuttavia al film cerca solo di renderti alieni, distanti e cerca di impedirti in tutti i modi di empatizzare con loro tuttavia un po' di curiosità ce l'ho per il secondo capitolo di questo eventuale franchise sì perché i personaggi mi sono interessati tanto la loro immortalità ancora di più e quindi sapete alla fin fine The Old Guard non è completamente da buttare e proprio per questo il fatto che sia stato realizzato con così poca voglia mi fa arrabbiare ancora di più se questo video vi è piaciuto come è piaciuto alla banda di pelusci immortali alle mie spalle che con quel fazzoletto sulla faccia cercano di non farsi di conoscere allora dovete fare sempre le certe cose ovvero mettere mi piace, lasciare un commento iscrivetevi al canale youtube di Cosmopaliner attivando anche la campanella delle notifiche su in alto che è sempre una cosa importantissima altrimenti chiederò al caro cugino Dudley di diventare il vostro nuovo personalissimo migliore amico